Io credo che la questione della candidatura sul posto di commissario europeo debba essere nel caso del commissario degli affari economici molto rispettosa dei desideri del Presidente Juncker, nel senso che mentre sulla vicenda dell'alto rappresentante c'è la necessità di un voto del Consiglio, nel caso della formazione dei portafogli decide il Presidente della Commissione e come tutti voi sapete per quello che ci riguarda è molto importante ciò che ha detto Juncker sia il gruppo del PSE sia il Parlamento che sarà cioè un membro del PSE, poi personalmente tutti voi conoscete la stima profonda che io ho nei confronti di Pier Moscovici, ma non tiriamo per la giacchetta Juncker, lasciamo che sia lui a decidere, se lei mi chiede un'opinione su Moscovici non posso che dirle che è un'opinione ottima.